Su delega della DDA della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della Compagnia di Montero Tondo hanno notificato un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma che dispone la custodia cautelare in carcere ad un 39enne romano già ristretto per altra causa, gravemente indiziato di sequestro di persona a scopo di estorsione. I fatti risalgono al 2018 quando un uomo, oggi 46enne, tentò di truffare tre uomini di Fonte Nuova all'epoca dei fatti di età compresa, fra i 23 e i 37 anni, che decisero di vendicarsi dell'affronto subito e lo sequestrarono dopo averlo picchiato con violenza e derubato del cellulare e dell'auto, chiedendo come prezzo della liberazione 20.000 euro. E così i tre, al termine di un primo filone di indagine, nel gennaio 2020 furono arrestati per i gravi indizi di colpevolezza raccolti al loro carico per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali gravi e rapina. Le successive indagini dei carabinieri della compagnia di Montero Tondo, diretti dalla DDA di Roma, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che, dietro la violenta reazione, c'era la mano di qualcun altro. Il 39enne indagato, sottoposto a molteplici procedimenti penali, nonché destinatario di misure a cautelare per ipotesi di reato associativo nel mondo degli stupefacenti, con ruolo di vertice dimostrativo della sua particolare capacità criminale e del rispetto di cui gode nel territorio di Fontenuova. Gli uomini che avevano subito il tentativo di truffa erano persone a lui molto vicine e dunque aveva visto ciò come un grave affronto per cui il 46enne doveva pagarla, in modo che tutti potessero averlo a monito. E così le indagini hanno potuto raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 39enne che in quel lontano 2018 aveva vallato la spedizione punitiva concorrendo nell'attività delittuosa. Una persona che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare per timore delle ripercussioni che avrebbe potuto mettere in atto, ma per il quale è scattata comunque l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.